In realtà l'idea è un pilota, è un pilota e tra l'altro non so se nel... Anche questo era un pilota tra l'altro, il tuo... Cos'è un pilota? E interroghiamo? Sì, interroghiamo, anche dal mezzogiorno... Andrè, prima puntata di una serie Ok, semplicemente per cercare dei finanziatori e far sì che questa cosa che magari può essere sia adattata a un cortometraggio A se stante o si può aprire a sviluppi ulteriori e quindi diventare una serie, trova dei finanziatori Quindi giustamente, visto che oramai la serie è una modalità di diffusione dei prodotti filmici Che voi tutti conoscete perché tutti voi avete l'abbonamento ad Amazon o a Netflix Naturalmente è diventato un modo molto contemporaneo Infatti giustamente anche il lavoro che ci ha fatto vedere Dario è un pilota che speriamo di vedere presto su Netflix Questo lavoro che stiamo per vedere è stato fatto con un bando dell'imaie Quindi un altro progetto, diciamo, con un mini budget Avevamo questi editori, i nostri amici che curano praticamente una guida enogastronomica Volevano, che si chiama Mr. Food e Mrs. Wine Insomma, proprio delle guide enogastronomiche dei ristoranti di Roma E ci siamo inventati questo ristorante parigino Ma naturalmente le riprese non siamo andati a farle a Parigi, naturalmente Bensì a Roma, sul Tevere, in un barcone che ospita un ristorante, un pub Vedrete insomma le immagini di apertura, se è intero, dei droni di repertorio di Parigi Ma in realtà tutte le immagini, cioè il cortometraggio o pilota Se riusciremo a sviluppare una serialità da questo primo episodio Sono state fatte in questo barcone che sta sul Tevere A proposito di situazioni lavorative un po' complesse Tra l'altro avete riconosciuto lo stesso attore che faceva Riparatore di Santi Che come vi dicevo, che è il cameriere maldestro Danilo Giuva Che lui ha fatto solo due film e entrambi insomma li abbiamo visti oggi Perché lui in realtà è un attore teatrale, però insomma molto versatile Chiusa questa parentesi, questo cortometraggio è stato fatto in due notti sul Tevere All'umido e al freddo, con orari diciamo simili a quelli che diceva Dario prima Quindi convocazione serale e si finisce alle tre di notte Quindi anche qui bisogna essere pronti a ogni evenienza E soprattutto a una situazione come può essere appunto un ristorante Che è una barca sul Tevere, quindi spazi ristretti Margini di manovra assolutamente limitati Una cucina come quella di un ristorante che è uno spazio piccolissimo Avete visto le scene nella cucina vera di quel ristorante Quindi non è stata ricostruita Abbiamo usato esattamente la location così come Tranne la sala del ristorante, la sala da pranzo Che invece è stata scenografata Perché in realtà non è un vero e proprio ristorante Ma sarebbe più un pub Quindi praticamente è stato scenografato Con un lavoro di scenografia che tra l'altro i proprietari hanno chiesto di lasciare C'è talmente tanto piaciuto Bellissimo infatti E hanno detto vabbè, regalateci il set che avete fatto E lo teniamo così E non vi facciamo pagare in affitto Bellissimo Peccato per la carne è andata male Perché ho spento tutti i congelatori in cucina No, poi sono stati riaccesi Comunque appunto la cucina è uno spazio delicato Perché ci sono i fornelli Ci sono il vapore che vedevate E il vapore dei fornelli veri Dove si cuoce la pasta Che sostanzialmente sono delle vasche Con le fiamme sotto E queste fiamme vanno fortissimo E fanno un rumore infernale Quindi ovviamente anche qua bisognava coniugare Delle esigenze di scenografia Quindi avere il fumo Avere proprio quello che ci si aspetta Da una cucina di un ristorante Che viva di quelle che sono le cose Che ci si aspetta di vedere in una cucina I vapori Cioè ci si deve sentire lì Che però naturalmente va un attimino a contrastare Con quello che è il lavoro del fonico Che ha bisogno di fondi puliti Per riprendere i dialoghi Quindi naturalmente c'è stata una costante guerra Con lo scenografo Che tra l'altro è di Bari In tutto ciò Che è Marco Pebb Che ha fatto un ottimo lavoro Devo dire E siamo arrivati a memorizzare Le manopole del gas La posizione delle manopole del gas In maniera tale da avere Un fondo sonoro Che fosse coerente Perché se io vado chiaramente A toccare le manopole del gas E quindi in certe scene C'ho il rumore dei fornelli Più forte rispetto alle precedenti Naturalmente poi il montatore del suono Impazzirà Perché avrà dei fondi totalmente diversi Quindi se sceglie una battuta da un piano E poi la va a montare Con il controcampo Avrà dei fondi diversi E quindi chiaramente impazzirà Perché non riuscirà a montare quei dialoghi Quindi c'è stato un lavoro appunto di squadra Io ho chiesto la collaborazione Del reparto di scenografia Per memorizzare esattamente L'intensità dei fornelli In maniera tale da avere sempre Il fumo Oppure quando serviva più vapore Erano dei totali In cui magari Il suono Il dialogo non c'era Erano dei dialoghi Scusate Dei totali Solo di racconto E quindi potevamo anche fare a meno Di mantenere questa coerenza Dei fondi sonori Quindi la cucina È molto delicata Spiazzi di manovra Molto Cioè si sta stretti Angusti Devi stare attento a come ti muovi Perché puoi colpire fari Puoi colpire persone Perché ci sono spazi molto ristretti Quanti eravate in quella cucina? Eravamo io Il direttore della fotografia Il regista Vedeva Dal suo Dal suo video village Che era spostato Eravamo io Il DOP L'assistente Il suo assistente Che gli faceva i fuochi E gli attori Stop Chi ero lì qui? Nicola Saravall Bravissimo Che Che tra l'altro Si è preso anche una mazzata di boom In testa da me E non mi ha detto nulla Perché siamo molto amici In caso contrario Chiaramente Sarebbe partita Oh ma che stai a fare? Oh ma che non mi vedi? Cos'è fanno? Tra l'altro È stato un lavoro Un po' complicato Dal punto di vista produttivo Perché visto Il Il budget Molto risicato Era appunto un bando Dell'imaie Quindi non tantissimi soldi Sarebbe interessante Insomma Parlare anche col produttore Che però non ci abbiamo Lui ha fatto questa scelta Di pagare tutti quanti Al minimo sindacale Quindi sostanzialmente Tutti prendevano la stessa cifra Il fonico Il direttore della fotografia L'elettricista L'aiuto Della truccatrice Tutti quanti Minimo sindacale Perché se no Altrimenti Non si poteva fare Se una persona chiedeva Un aiuto in più Si poteva mettere Se io chiedevo Un noleggio Di un radiomicrofono in più Si poteva fare Ma se il direttore Della fotografia Avesse diciamo Chiesto quella Che la paga Sua normale Sostanzialmente Saravano fuori budget Tutti hanno consentito A fare questa cosa qua Però qualcuno Ha rosicato Tipo un assistente operatore Praticamente abbandonato Al primo giorno Pur sapendo quali erano Le condizioni Perché si era fatto Troppo tardi Non poteva più tornare Non aveva I mezzi Per tornare più In Umbria Dove abitava lui Ad Assisi Non mi ricordo Vabbè A parte questa cosa qua Quindi lavoro in squadra Situazioni complicate Naturalmente io Ho iniziato La mia faida personale Con questo assistente operatore Ci sono minacciati di morte Dal primo All'ultimo minuto Giusto per parlare Del clima sul set Del clima Che a volte può essere Non Devastante Ho Una nostra amica Fotografa di scena Che è una carissima amica Ma che A un certo punto Doveva capire Che Doveva togliersi Da questa cucina Dove oggettivamente Stavamo In pochi E cioè In pochi Perché Uno in più Eravamo troppi Lei stava lì A fare le foto A un certo punto Ha urtato l'elettricista Che si è spazientito Moltissimo Perché sostanzialmente Trano perché sono così calmi In genere sono così calmi Oh Te le devi levare Che è appena uscita Oh ma chi io dice A quella E io Glielo dico io Che sono amico Sono andato da lei Ho detto Francesca Poi ricostruiamo tutto Alla fine delle inquadrature Ti fai dei finti backstage Venici incontro Perché il backstage È importante Ma noi qua Ma la tua vita È più importante Ma noi vorremmo Che è il tuo teleobiettivo Della Canon Tornate vivi E sani a casa Quindi abbi pazienza Quindi è stato un po' complicato Portarsi a casa Questa Portarsi a casa Le riprese Tra l'altro Avrete notato Che c'è una voce fuori campo Dello stesso Vincenzo Di Michele Che è il critico Culinario Più famoso Di Parigi Che va in questo ristorante Col taccuino E l'occhialino A fare insomma Il precisino Della situazione Nonostante l'incidente Della Carbonara Addosso Poi insomma Finirà tutto A fare luce e vino Siccome il tempo A disposizione Era poco E noi avevamo l'esigenza Di portarci a casa Tutto quanto Durante quelle due notti Di riprese Queste voci fuori campo Che sentite Sono state registrate Con un microfono dinamico In un'auto di produzione Nel molo Cioè nel Nel lungo Tevere Cioè a un certo punto In un momento Di pausa trucco Io ho Preso proprio fisicamente Vincenzo Di Michele L'ho portato fuori Gli ho detto Questo è il momento buono Abbiamo questi cinque minuti L'ho chiuso Nell'auto Dove quindi avevamo Una situazione Un po' più controllata Quindi un po' più simile A quello che potrebbe essere Uno studio Perché la voce fuori campo Naturalmente Deve essere un po' più Profonda Deve essere Priva di ambiente Perché Va Incollata sopra Un altro ambiente In genere Qua avevamo il ristorante Con i rumori del ristorante E sopra Interno Esterno Esatto Però questa voce Che deve essere Neutra Quindi registrata Idealmente in uno studio Però noi Non avevamo il tempo Di riconvocare Nel budget A dire la verità Di riconvocare Vincenzo Di Michele In seguito Quindi una cosa Che si usa fare Molto Molto spesso In situazioni Di basso budget È approfittare Della presenza Dell'attore Quindi sostanzialmente Quindi sostanzialmente È un microfono A condensatore Con una lunghissima Gittata Quindi un microfono Che è molto sensibile Molto direttivo E anche se usato In un ambiente controllato Può addirittura Prendermi un qualcosa Che sento fuori dall'auto Quindi per evitare questo Si usa un microfono passivo Come un dinamico Il classico gelato Che si usa anche Nelle conferenze O nei concerti Che è molto più Come dire Meno sensibile Rispetto ai suoni esterni E mi andrà a catturare Soltanto Messo vicino naturalmente Solo la voce Del talent Dandomi quel classico effetto Da voce fuori campo Questa cosa si fa Si può fare Con questo escamotage Sfruttando una pausa Del set Ed è quello che noi abbiamo fatto In questo caso specifico Per la voce fuori campo Poi per il resto Insomma c'è C'è poco da dire Quello che si sente Anche gli ambienti Che si sentono Sono tutti veri Perché è stato fatto Quasi tutto Con il boom Tranne due C'è l'acqua Tranne due tre C'è l'acqua Si è scatenato Quest'ultima parte Sta recuperando tutto Dicevo che qua si fa Tutto tutto quanto Col boom E con l'asta Anche Anche queste riprese Fuori dal Dalla barca Sul lungotevere Sono state tutte quante Fatte con Con l'asta Gli attori sono stati seguiti Sono stati microfonati Per fortuna Tranne quel bellissimo Carrello Che si vede Che hanno sfruttato Quest'idea Per raccontare Questa è stata Una grande genialata Del DOP Per facilitarsi E raccontare Questa Scena Del lancio Del cameriere Ma al destro Che inciampa Il lancio Al piatto Di carbonara Bollente In faccia Al Al povero critico Hanno deciso Di fare Questo carrello Fuori Raccontando Il barcone Visto da fuori Questa cosa Ha aiutato Un sacco Ci ha dato Una grossa mano Anche la script supervisor Che lavora Con Sorrentino Quindi insomma Non l'ultima Arrivata Che è la compagna Di Salavall Adesso lo si chiama Mi verrà in mente Poi te la dico Che c'è stata Di grosso aiuto Suggerendoci Una serie Di inquadrature Di racconto Che ci aiutassero Molto facilmente A descrivere Quest'azione Che il regista Voleva fosse dinamica E quindi La maniera migliore È Uscire fuori Fare inquadrature A palla Mettere totali Dentro E raccontarla In questa maniera Altra nota Diciamo interessante Qua c'è pochissimo Di effetti speciali C'è un lavoro Di color correction Ma sostanzialmente Per andare A colorare A contrastare Però poi Tutto il resto È stato fatto Molto Diciamo Alla vecchia maniera Anche I piatti fumanti Che si vedono In cucina Sono stati ottenuti Con Dei reagenti chimici Che Producono fumo Cose Che si usano Molto Nella pubblicità Quindi diciamo Siccome Come Tipo il ghiaccio secco Sì Sono proprio Delle goccine Che producono fumo Sostanzialmente Cioè tu metti Una goccina Di questa cosa E chi fa un fumo Della madonna Su un alimento Chiaramente È tossico L'alimento Poi non te lo potrai Mai mangiare Però Diciamo Come dire Di inalare Quel fumo Esatto Però questa cosa È interessante Visto che comunque Anche Prodotti Che mostrano Cibi O format Di cucina Sono una cosa Di forte Attualità Li vediamo ogni giorno Diciamo a qualsiasi ora Da Masterchef Alla prova del cuoco È interessante Anche sapere Come vengono fatti Poi questi Questi format Perché magari Qualcuno di voi Un domani Si trova a lavorare A fare un lavoro A qualsiasi titolo In format Di questa natura È È